Ho parlato con quel giovanotto, eh? Ho avuto un colloquio molto civile. Abbiamo avuto uno scambio di vedute e lui è stato veramente comprensivo. Poveraggio, innamorato come una bestia, eh? Il pazzo, il pazzo di te, ti trovo una donna bellissima, ha detto. Molto sexy. Ah, sai che sei piaciuta soprattutto moltissimo a tutti i suoi amici, eh? Li trovano proprio straordinari, straordinari. Però lui è... Lui sarebbe anche... Insomma, sarebbe anche disposto a rinunciare, perché non vuole rovinare una famiglia. Però, ovviamente, come tu ben capisci, l'ultima decisione... Aspetta a te, Eppi. Eh, che fai allora? Ho già deciso. Resto con te. Perché ti stimo moltissimo. Sì, ma... Amare, amare no. Sì, ma... Grazie a tutti.